Una storia lunga a 900 anni. Fu San Guglielmo da Vercelli salito sul monte per condurre un'esistenza ascetica a fondarlo nel 1123 a 1270 metri di altitudine nel cuore del massiccio del Partenio. Ed oggi il santuario della Madonna di Montevergine, uno dei siti mariani più visitati al mondo, festeggia i suoi nove secoli di vita. Un evento storico per il quale la Santa Sede ha permesso l'indizione di un anno giubilare virginiano che inizierà oggi. A presenziare l'apertura ufficiale nel chiostro cinquecentesco del santuario, il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin. La Basilica, che dal 1181 segue la regola benedettina, raggiunta da molti con la seconda funicolare più ripida d'Europa. È sugli insegnamenti di San Benedetto che dobbiamo costruire le colonne dei valori della nostra comunità, hanno precisato il ministro degli interni, Piantedosi, e il governatore Campano De Luca. Una storia importante non solo per il Mezzogiorno e per l'Italia, ma credo per tutta la civiltà occidentale. Luoghi come questi sono pilastri della nostra spiritualità e della nostra identità storica, perché qui è stata custodita la cultura dell'Occidente. La speranza di tutta la comunità è ora che in occasione del nono centenario l'Abbazia di Montevergine possa ricevere la visita del Pontevice.